Esperienza personale, io ho fatto il vaccino e ho avuto anche il Covid. Direi che gli effetti collaterali delle medicine per curare il Covid sono nettamente più gravi rispetto al vaccino. La tachipirina ti rischia l'ictus e ho avuto dei dolori alla testa terribili e la stessa delta cortene che devi prendere è estremamente pericoloso per il corpo. Quindi io dico la verità, tra il vaccino e la tachipirina e il delta cortene quelli che danno gli effetti minori, danno danni minori al vaccino che tra l'altro è uno strumento che è fortemente testato perché sono tantissime persone che lo hanno fatto in tutto il mondo. Vorrei anche far raccontare una piccola storia visto che è proprio recente. È accaduta in Romania e mi ha raccontato una persona che ha creduto a giornalisti e a sacerdoti rumeni di non farsi il vaccino 15 giorni fa ci ha lasciato, 50 anni stava perfettamente. Si è accorto troppo tardi di aver preso il Covid ed è morto in pochissimo tempo. Si sono vaccinati tutti dopo, non hanno più fatto storie, cose negative e cose negative. Visto l'effetto che ha fatto non essersi vaccinato, immediatamente. Allora lo Stato italiano sta lavorando per evitare che questo acceda, per salvare le persone e i risultati gli stanno dando ragione. C'è poco da fare. Ho conosciuto anch'io una persona che ha preso il Covid, ha preso il raffreddore. Purtroppo le storie di persone non vaccinate che muoiono sono in continua evoluzione. Devevo dire anche il ciclista Pozzato che credeva di essere potentissimo in Luna e anche lui in terapia intensiva. 150.000 malati, se fosse vero quello che dice lei, avremmo 150.000 in terapia intensiva. Però se invece abbiamo solo… lo sa quante persone ci sono in terapia intensiva in Italia? Beh, in questo momento sono un settimo dell'anno scorso. No, no, rispondo a questa domanda. Lei lo sa quante sono in Italia? In terapia intensiva in questo momento credo che siano 1.000, penso. Sono 570. 470, mi dicevi che solo 24 ore portate un dato superiore.